E' la Lancia Belna convertibile del 1935, fu prodotta in Francia proprio perché c'era il protezionismo per venderla, in questo caso questa autovettura, proprio lei, arriva da un collezionista olandese, è un pezzo rarissimo e ha il prezzo più basso d'Europa. Il prezzo di base d'asta è di 43.000 euro da confermare al banco, mi confermi 43, 44 per il banco, banco 44, per il banco 45, 46 per il banco, banco 46, 46 banco, aspetto 47, 47, 47, 48 banco, per il banco 48, 48 per il banco, 48, 50 per il banco, banco 50, aspetto 52, altrimenti aggiudico il banco a 50, 52, 54 banco, per il banco 54, 54, 54 per il banco, aspetto 56 dal telefono, 56, 58 banco, per il banco 58, 58 banco, 50, 60, 60, 62 per il banco, banco 62, volevo far risparmiare, non ci sono riuscita, 62, 66 banco, 66 per il banco, 66 per il banco, 60, 60 per il banco, 70, 70 per il banco 70, accetto 72, 70 banco, mi dispiace ma noi dobbiamo tutelare che ci lascia le offerte, 70 per il banco, 70 per il banco, almeno che non voglia intervenire la sala, altrimenti aggiudico il banco a 70, 70, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco.